Grazie, buongiorno a tutti, ringrazio il CPL e Roberta Ausenda per l'invito. Vedete, in occasioni come queste il prefetto non può mancare, è importante la presenza, è importante la testimonianza. Insomma, esserci, ricordiamoci quello che ha detto il nostro Presidente della Repubblica ieri, che è stato un po' ripreso da tutti i telegiornali, chi non è contro la mafia è complice della mafia. Quindi esserci, testimoniare con la nostra presenza che noi siamo contro la mafia. La vogliamo combattere, la vogliamo combattere tutti insieme, cominciando appunto dal mondo della scuola. Io sono molto vicino ai ragazzi, ieri in una breve intervista che ho rilasciato al cappello sulla notizia, ho detto che ho un debole, tre deboli, li ripeto anche oggi, per i giovani, per i ragazzi, per la scuola, per i comuni, per i sindaci e poi per i giornalisti. Insomma, questo è un po' per la stampa, perché credo nella stampa libera. Senza la stampa non siamo un paese democratico. E i ragazzi perché? Perché dai ragazzi, dalla scuola, parte il riscatto di una comunità. È importante, ci sarò anche oggi al Politecnico, per premiare le classi vincitrici del premio Cerete, tra l'altro ho portato fortuna pure ai ragazzi di Galbiate, perché qualche settimana fa ero proprio da loro. Abbiamo ottenuto una bella iniziativa insieme al commissario del Comune, la collega Motolese, con i ragazzi dell'Istituto Comprensivo. Quindi siamo stati, diciamo, anche auspici di questa vittoria. La mafia va combattuta tutti i giorni, vedete ragazzi, va combattuta con la nostra testimonianza, con la nostra responsabilità, dicendo no a tutto, dicendo no ai piccoli interessi. La mafia è silente, la mafia non si vede, la mafia si dice un po' asintomatica in questo periodo, non fa più quelle azioni eclatanti di tempi fa, morti, uccisioni. Abbiamo assistito l'altro giorno alla commemorazione dell'anniversario della morte di Falcone, non fa più quegli attentati. Oggi naviga sott'acqua e quindi è ancora più pericolosa perché cerca di annidarsi, di infiltrarsi, di contaminare tutto ciò che può. E dobbiamo stare attenti, particolarmente oggi, perché parte un piano massiccio di investimenti. Laddove ci sono soldi, laddove ci sono risorse importanti, la mafia si annide e cerca ovviamente di poter condizionare gli appalti, di poter rilevare aziende che sono in difficoltà, di poter infiltrarsi negli apparati della pubblica amministrazione. Vi do qualche cifra, brevissimamente, perché è proprio recente di qualche giorno fa che il Ministro dell'Interno ha inserito nella relazione che ogni anno tiene al Parlamento sull'attività delle commissioni straordinarie. Cosa sono le commissioni straordinarie? Siamo noi funzionari dell'Interno che, a seguito di scioglimenti di comuni per condizionamento e infiltrazioni mafiose, veniamo mandati in questi comuni ad amministrarli. Ebbene, io due anni fa non ero qui a Lecco, proprio appena due anni fa, ero in un comune noto dell'Aspromonte, si chiama Platì, come si dice, Roccaforte, insieme a San Luca, dell'Andrangheta calabrese. Ed ero proprio lì due anni fa, fui mandato insieme a due colleghi di Messina a reggere questo comune, ci sono stato più di un anno, un anno e mezzo quasi. E vi devo dire che la mafia lì si percepisce a pelle, è noto anche come il paese dei bunker, perché sotto nelle fogne ci sono chilometri e chilometri di cunicoli dove appunto i latitanti si nascondivano. Io ci sono entrato dentro, che ho chiesto ai cacciatori di Calabria, un nucleo specializzato appunto della Calabria, di potermi, come dire, farmi vedere questi bunker. E mi sono infilato in questi bunker. Insomma, qualcosa veramente di raccapricciante, per dire come la mafia cerca di nascondersi e di infiltrarsi. Ebbene, in questi comuni, in questo comune, vi dico solo un'esperienza che mi è rimasta nel cuore, perché ancora oggi ottimi rapporti con gli apri, non è che i calabresi siano tutti dranghetisti o mafiosi, insomma, la maggioranza è persone per bene. Io stesso ho una moglie calabrese, quindi non è che sono contro la Calabria, anzi. Quindi, però ecco, in questo paese c'erano tanti beni confiscati che non venivano assegnati. Perché? Un po' per connivenza, ovviamente, degli amministratori, che non si mettevano contro i boss mafiosi locali per assegnare questi beni. C'era un bene appena arrivato, era stato fatto un bando pronto ad essere dato ad un'associazione di protezione civile. Il giorno in cui bisognava firmare si sono tirati indietro perché evidentemente intimiditi dai boss locali. Ebbene, questo bene bello, insomma, al centro del paese, si trovava proprio in una via dove abitava la famiglia che qualche anno prima aveva fatto uccidere il comandante della stazione dei Carabinieri di Platì. viveva proprio in questa via, c'era questo palazzo bene confiscato. Allora abbiamo detto, insieme ai colleghi, bisogna dare una dimostrazione che lo Stato c'è, è forte e non si piega all'azione intimidatrice dell'andranca. Da questo immobile l'abbiamo ristrutturato, era una discarica a cielo aperto, abbandonato. L'abbiamo con i fondi del comune risistemato, tinteggiato, messo a nuovo, una bella palazzina. E dopo, siccome i parroci mi venivano a chiedere, la faccio breve, non voglio essere lungo, mi venivano a chiedere dei locali per poter fare catechismo, ho detto, beh, c'è il bene lì, prendetevi questo bene, ve lo ristrutturiamo. Loro erano un po' impauriti, non volevano per la verità. Allora abbiamo fatto un'opera di convincimento col vescovo di Locri Gerace, e grazie a lui e a Libera, che era molto presente su quel territorio, siamo riusciti a fare una convenzione con la Curia Arcivescoviglia a dare il bene alla Curia per farci il progetto oratorio, cioè il progetto appunto per fare catechesi, cineforum e altre attività. E per dare la dimostrazione che lo Stato c'è, quella via dove appunto c'era questo bene, dove c'era la famiglia che aveva ammazzato, il comandante si chiamava Antonino Marini, il comandante della stazione, l'abbiamo intitolata al comandante ucciso, ed è venuto all'epoca anche il ministro dell'interno per inaugurare bene e questa via. Quindi per dire che lo Stato c'è, lo Stato è forte, e dobbiamo fare sistema tra di noi. Vi dicevo qualche dato, sono 54, pensate bene, le commissioni straordinarie che nel 2020 hanno amministrato enti sciolti per infiltrazioni mafiose, 52 comuni, una popolazione circa di 704 mila abitanti, due aziende sanitarie, l'Asp di Reggio Calabria e di Catanzaro. Tale numero comprende sia le gestioni commissariali avviate nel corso del 2020, sia quelle connesse a scioglimenti avvenuti in precedenza. La quasi totalità degli enti commissariati è concentrata in quattro regioni di insediamento storico della criminalità organizzata, Calabria 21, Sicilia 14, Puglia 8, Campania 7. Le restanti due realtà, in queste sette c'è anche il mio comune di origine, pensate che il mio comune a nord di Napoli in dieci anni è stato sciolto tre volte per mafia, quindi per dire come la criminalità insomma cerca di annidarsi ovunque. Le restanti due realtà comunali si trovano in Basilicata 1 e Valle d'Aosta. Lo scioglimento del Consiglio di St. Pierre, disposto nel 2020, conferma la crescita del trend registratisi negli ultimi anni nei comuni del nord Italia, che ora salgono complessivamente a nome. Qui cresce la presenza della criminalità, attirata dalla possibilità di ampliare il proprio volume di affari, sfruttando, grazie alla penetrazione dell'economia legale, le condizioni economiche più vantaggiose in special modo nel settore degli appalti e dell'urbanistica. Ecco perché dicevo, noi dobbiamo stare attenti che questo volume di fondi che arriveranno adesso con il recovery plan sicuramente attirerà le mire della criminalità organizzata. E noi a LICCO non siamo esenti. Sappiate che in due anni LICCO abbiamo adottato come prefettura ben 21 interdittive antimafia e ben 10 negli ultimi cinque mesi. e altre ne dovrò fare nei prossimi giorni. Questo per dire che cosa? Che LICCO è bellissimo, è un territorio stupendo, ma la criminalità c'è, non si vede, ma c'è. Quindi stiamo attenti, quindi io rivolgo un appello ai ragazzi al mondo della scuola che può fare tanto, grazie alle vostre testimonianze, al vostro esempio, portiamola a legalità ovunque, portiamola soprattutto a scuola, dove lì ci saranno le nuove generazioni che poi sicuramente faranno meglio di noi. In bocca all'uva e buona giornata.